e buonasera amici cripto investitori e ben ritrovati a tutti quanti oggi vi avevo avvisato che avremmo saltato la live perché siamo a roma sono arrivato in questo momento dopo quella mezz'oretta di piacevolissima attesa per i taxi fuori da termini chi è stato a roma capirà e però non poteva mancare a prescindere dall'orario a prescindere dalla situazione in una giornata come oggi il nostro flash update per non abbandonarvi con una situazione che sembra voler tornare alla carica nei giorni che ci separano dall'alving alving che ormai è sempre più vicino è stimato le ultime stime lo vanno a posizionare il 20 di aprile quindi manca meno di un mese e infatti non si può che ricominciare a parlare proprio di alving adesso un po l'evento del momento no l'attesa del momento e visto come è chiuso la settimana innanzitutto adesso andiamo a vedere bene tutto quanto come abbiamo chiuso appunto la settimana scorsa come abbiamo aperto la nuova oggi e insomma alcune cose molto interessanti che andiamo a vedere proprio oggi stesso sembra che ecco possa essere in fase iniziale un'altra possibile ondata di fomo e io a questo punto apro con il chiedere a voi poi ovviamente facciamo tutta l'analisi degli scenari possibili e di cosa aspettarci in questi giorni in queste settimane proprio avvicinandoci a questo fantomatico fatidico evento io vi chiedo secondo voi sta succedendo di nuovo ovvero sta ricominciando un'altra ondata di fomo che potrebbe portarci a rompere nuovamente gli ultimei che al momento si trovano sui 74 mila e ripartire per l'appunto quindi con con un ulteriore leg up con una nuova fase di price discovery cosa vi aspettate in altre parole da qui all'alving tirate fuori le sfere di cristallo e fatemi sapere la vostra nei commenti ovviamente prima di iniziare con le nostre analisi e tutto quanto non mancate di sfracellare il tasto del like cosa fondamentale se volete vedere bitcoin impompare ormai abbiamo capito che il mercato funziona esattamente in questo modo quindi dilaniate il tasto del like e ora possiamo procedere partiamo con la nostra analisi settimanale allora in realtà l'avevamo condivisa stamattina su telegram chi ci segue su telegram sa che ogni giornata si inizia con l'analisi di bitcoin che sia appunto di lunedì ovviamente l'analisi settimanale perché è un giorno importante la chiusura settimanale è molto importante ma durante tutte le altre giornate della settimana facciamo l'analisi invece su time frame giornaliero quindi se non vuoi perderti quella di domani mattina e so che non lo vuoi iscriviti al nostro canale telegram è completamente gratuito e il link lo trovi giù in descrizione stamattina dicevamo ai ci sono anche notizie in tempo reale dati tutta una serie di cose super utili e interessanti stamattina cosa dicevamo osservavamo no ci trovavamo qua è bello no riprenderlo dopo che magari c'è stata un altro c'è stato un altro movimento noi andiamo a riprendere la situazione del mattino così confrontiamo anche un po che cos'è accaduto no si contestualizza meglio spesso e volentieri che cos'è accaduto allora ecco ritorniamo pure qui eravamo ci trovavamo qui con una chiusura settimanale molto positiva cioè guardate questa candela una candela molto eloquente e infatti abbiamo detto chiude a favore della domanda con la lower shadow che era dominante e assorbito tutto l'attacco ai 61.000 cioè è un messaggio molto forte torniamo pure al settimanale vedete abbiamo attaccato in questa candela due supporti che durante la settimana stessa quello intermedio 65.500 è stato anche perso abbiamo attaccato la zona di range low se vi ricordate sul daily questo va a configurare un po un range avevamo detto ci muoviamo in questo in questo intervallo e questo era un po il range middle quindi trovarsi sopra significa aver maggior probabilità di attaccare il range high banalmente e trovarsi sotto aver maggior probabilità invece di attaccare il range low è bello come la candela settimanale no che si vede così che abbiamo appunto stuzzicato anche il range low a 61.300 e immediatamente si è scatenato l'assorbimento entro la stessa medesima settimana sul giornaliero guardate cioè questo è ancora più evidente la domanda che è esplosa nel momento in cui siamo andati a stuzzicare proprio il range low il giorno dopo vedete candela verde uguale e contraria alla precedente questa è una reazione a mio parere molto eloquente ovvero che la difesa di questo livello è stata molto molto forte poi di nuovo ci sono state due giornate di offerta ma poi la domanda ecco che ha chiuso soprattutto la candela di domenica ha chiuso la settimana praticamente come abbiamo visto con un assorbimento di tutto il dump oggi inizio settimana successiva partiamo subito in quarta partiamo all'insegna della domanda curiosamente volumi non particolarmente alti a questa cosa bisogna tenere un occhio ecco sempre sempre aperto perché appunto i volumi non sono particolarmente alti ma perché comunque di fatto ci troviamo sempre all'interno di un'area già tra virgolette esplorata e non particolarmente direzionale la vera il vero movimento nel caso in cui dovessimo riuscire ad innescarlo cioè la vera fomo si potrebbe scatenare una volta rotti appunto i massimi locali quindi sopra i 74 mila anche perché se andiamo a vedere un po di dati in più guardate le liquidazioni noi abbiamo preso con quest'ultima lega app sono state prese una marea di liquidazioni tutte quelle che si trovavano fondamentalmente in questa zona e ce n'erano parecchie ora siamo in una zona un po di vuoto vedete qui non ci sono liquidazioni quindi serve una dimostrazione di domanda genuina che vada effettivamente a colmare un po questo gap a spingere no domanda che crea nuove posizioni che apre nuove posizioni e ci va a riportare fin qua nella zona degli ultimai dove invece c'è un'altra diciamo un altro barile di benzina pieno di liquidazioni pronte a saltare nel caso in cui venissero stuzzicate quindi qua di nuovo teniamoci forte nel caso in cui dovessimo arrivare qui perché bisogna osservare molto bene la reazione no di domande offerta proprio allo scatenare tutte queste liquidazioni la domanda rimane la solita ovvero nel caso in cui dovessimo ripeto andare a stuzzicare quest'area vedremo probabilmente innanzitutto uno squeeze abbastanza importante di short che verrebbero puniti brutalmente e poi cosa accade accade che di nuovo c'è assorbimento e si ritorna dentro oppure accade che si continua la price discovery in questo scenario continuazione di price discovery e ulteriore leg up si potrebbe finalmente tra virgolette no dico finalmente perché sarebbe anche molto positivo aver intervallato una bella area di lateralità no dalla dal primo effettivo volta i mai che è stato qua a quella che poi è la leg up reale no avere in mezzo un po un mesetto no alla fine più o meno sono un paio di sette tre settimane di lateralità già rende ecco il tutto un po più organico quindi già è meglio e non si rischia di andare in movimento parabolico troppo in fretta vediamo quindi se ci sarà questo effettivo scenario che ci porterebbe la leg up e lì ripeto price discovery c'è da capire dove si presenta l'offerta altrimenti nel caso di assorbimento quindi falso breakout squeeze e assorbimento degli short lì c'è un po da vedere come andrà a chiudere effettivamente poi il le candele dopo l'assorbimento stesso si rimane nel range e si crea soltanto un higher high più alto stiamo stiamo un po vedere per adesso è presto però questi sono un po i possibili scenari di breakout e se continua così non dovremo aspettare molto perché sembra molto intenzionato ad andare a stuzzicare molto presto quindi puntate gli occhi su quello tenetevi forte perché ci saranno degli scossoni ma non fatevi prendere né dalla fomo né dalla frenesia appunto della volatilità perché bisogna vedere no una volta che si placano le acque per l'appunto come si andrà a stabilizzare il prezzo andando a vedere l'open interest vedete che anch'esso è in espansione adesso non l'ho più refreshato però l'ultima l'ultimo check era un'espansione molto maggiore cioè abbastanza ma un 50 per cento maggiore rispetto all'estensione del prezzo quindi significa ripeto nuove posizioni che vengono create diamo giusto una refreshata allo schermo per vedere se il trend continuo effettivamente si sembra che siamo in fase espansiva quindi insomma si sta caricando un po' di potenziale volatilità attenzione mi raccomando perché quando si carica volatilità così poi se dovesse esserci il falso breakout c'è il rischio di fare un inciampo molto repentino se partiamo chiaramente con verso la price discovery anche lì parte lo short squeeze quindi massima attenzione massima cautela maneggiare con cura ecco come come si suol dire e soprattutto quando si va a stuzzicare le liquidazioni in questa zona che un po dove salta fuori il più parlando di dati sugli etf abbiamo chiuso e questo è un dato molto interessante perché abbiamo chiuso una settimana tra le più negative in termini assoluti chiaramente se guardiamo il quadro generale è ancora estremamente positivo sopra ogni aspettativa ma la settimana appena terminata è all'insegna delle fuoriuscite si parla di meno 888 milioni di uscite soprattutto ovviamente dovute a grayscale e in buona parte dovute a gemini e genesis che sapete che gli hanno approvato la liquidazione il piano di liquidazione quindi loro vendono gli asset che possiedono per recuperare denaro per i creditori e loro possiedono una grande quantità di gbts o meglio possedevano perché li hanno per l'appunto venduti praticamente tutti quindi ci si aspetta che in questa settimana dovrebbero rallentare le fuoriuscite da grayscale proprio perché non dovrebbe più esserci questo impatto massivo che deriva da gemini e genesis stiamo a vedere i dati questo dato è curioso anche perché ci fa capire di nuovo lo avevamo sottolineato anche venerdì scorso se non ricordo male ma ci mostra in modo abbastanza palese che price action e movimenti degli etf sul breve non sono per forza direttamente correlati cioè può succedere di avere una settimana bullish come questa che nonostante il leggero body rosso per me comunque è una chiusura settimanale molto bullish lasciatemelo dire nonostante ci sia dati sugli etf appunto tra i peggiori dal lancio ad oggi questo è da tenere a mente no non bisogna banalizzare dicendo se entra roba negli etf allora si sale se esce si scende sicuramente un impatto c'è e ci sarà sempre nel tempo ma non bisogna ripeto banalizzarlo detto questo vi racconto anche vi è giusto per parlare un po' di top signal no per non farci prendere troppo dalla fomo ricordiamoci anche un po' di top signal oggi stavo appunto scendendo in treno per per venire qua a roma non so chi di voi c'è domani ci vedremo festeggeremo un po' insomma magari festeggeremo già gli old time high chi lo sa lo vediamo sta di fatto che ero bello seduto tranquillo sul treno che mi leggevo one piece tra l'altro e sento dietro no due ragazzini avranno avuto 16 a 17 anni secondo me e stavano litigando per modo di dire e dicendo no perché queste meme coin insomma per chi aveva le meme coin migliori faceva morire da ridere perché la loro tesi di investimento era questa no cioè non capisci ne parlano tutti su tiktok fra cioè non puoi non averla era un po' questa la situazione niente ho un po' riso ha detto vabbè non andiamo troppo in fomo che qui qualche top signal di tanto in tanto viene fuori ditemi per curiosità cosa avreste fatto voi in quella situazione io mi son fatto i cavoli miei che come si suol dire si campa cent'anni no poi venendo invece dunque avevo anche altre cose da condividere con voi volevo essere rapido oggi non vi voglio annoiare troppo che perché così poi me ne scappo brutalmente a cena ecco questo si vede nei tabelloni di termini non so se avete visto anche voi sì effettivamente la fomo ha preso ha preso anche loro e al ving party state pronti all'ultimo drop il prossimo sabato ma adesso poi ve ne parlo bene ne avremo tempo di discuterne a dovere dunque aspettate ecco ci avete chiesto a grandissima voce contenuti su polkadot e effettivamente un po di tempo fa li avevamo fa abbiamo fatto un po di video in passato ma non li abbiamo più aggiornati e è da un po che non ne parlavamo più allora abbiamo ricominciato facendo un bel articolone se vi interessa andarvelo a leggere dove abbiamo un po riassunto le caratteristiche ecco di polkadot i casi d'uso e quelle che sono un po le sue retoriche del momento a breve arriverà anche un bel video perché penso che possa appunto arrivare anche a essere più digeribile però intanto se volete un bigino lo trovate sul sul nostro sito seguiteci pure anche su x su telegram trovate tutti i link di volta in volta quando condividiamo qualcosa comunque ecco visto che ci avete scritto in tanti ci avete chiesto aspettatevi qualche altro contenuto su polkadot nel tempo proprio per approfondire anche questo ecosistema ultime cose una piccola curiosità guardate questo grafico l'ho trovato molto interessante perché guardate il ciclo attuale no non è quello arancione so che lo pensavate che sembra quello più di anticipo in realtà è un ciclo super storico questo del 2011 le cose sono un po cambiate vedete i cicli successivi dagli all time i in poi sono tutti molto molto simili e l'attuale è quello nero effettivamente sì vedete però con una piccola modifica prendendo come punto di inizio il primo all time i non il secondo vedete anche se l'all time i reale è il secondo su questa questa analisi di glass not dice effettivamente il secondo all time i non è un vero all time i perché comunque c'erano già molte metriche che erano diventate bearish quindi ha detto a loro il vero all time i da un punto di vista temporale da considerare è il primo e se così si fa vedete che siamo impari no con la corsa ed effettivamente siamo anche in una fase comparandolo col ciclo precedente 17 21 in una fase in cui ci si aspetta un po di lateralità che potrebbe essere quella che stiamo vivendo in queste settimane magari potrebbe continuare ancora un po chi lo sa lo vedremo poi non esistono mai due cicli identici e poi la price discovery in quel caso lì ricordatevi anche lato alt season ecco anziché volerla anticipare il discorso dell'alt season ricordiamoci sempre che storicamente la alt season avviene dopo la prima leg up post price discovery dall'all time i di bitcoin quindi se andiamo a prendere vedete la vecchia il vecchio il vecchio time i sopra i 20.000 qua vedete c'è stata leg up storno e poi qua è partita l'alt season ok quindi struttura più che confermata storno quindi si stabilizza un attimo e il capitale che ormai è diventato molto risk on molto propenso al rischio visto che la situazione è in max fomo ecco che lì c'è la rotazione nei confronti cioè verso appunto le alt coin e quindi è lì che bisogna aspettarsela con massima probabilità visto che non ha senso predire nulla e dire potrebbe forse chissà chi non sa un grafico che ci viene estremamente in aiuto ve l'ho scillato già varie volte è questo qui che compara la capitalizzazione totale delle alt coin escluse le stable coin con quella di btc vedete tac fondamentalmente ora aspettate che tolgo il volume profile che non ci serve ora c'è equilibrio e quindi la cosa da vedere è se parte per l'appunto una leg up e ripeto guardate cosa è successo in passato questa è stata l'ultima leg down dopo l'all time i di bitcoin quindi leg up di bitcoin sopra l'all time i leg down delle alt coin quindi attenzione di nuovo a cercare di prevedere le cose dopo è partita la vera al season cioè questa leg up questa è la l'unica vera al season le altre come vedete sono di breve durata l'unica vera che dura poche settimane ce n'è una ogni ciclo è lì storicamente quindi attenzione occhi aperti speculativamente parlando potrebbe essere l'occasione in cui si massimizzano le probabilità di ottenere profitti con dei piccoli delle posizioni appunto speculative un po più aggressive sulle coppie alt btc o sulle alt coin in generale perché ripeto statisticamente in quella fase lì performano meglio di bitcoin bene direi che possiamo chiudere ultima cosa che però ormai abbiamo già visto e rivisto ovunque era circolato una notizia tra l'altro da fonte attendibile che affermava che l'unione europea aveva votato a favore di un ban per i wallet crypto non custodial in realtà è stata travisata quella notizia e la realtà è diversa quella notizia è una normativa già valida no una cosa che era già stata approvata ma riguarda i cosiddetti casp quindi le aziende noi provider di servizi per le cripto loro non possono andare a creare gli utenti account anonimi ok quindi loro devono di fatto sottostare a regole di kyc altrimenti non possono permettere pagamenti ma con i nostri wallet non custodia legger o quant'altro che sia noi siamo assolutamente sempre e comunque liberi la limitazione ripeto è lato aziende che offrono servizio di wallet o di quello che è comunque gestito con un account a carico loro e quant'altro ecco che lì chiaramente non si può più per motivi di antiriciclaggio offrire account anonimi questo è quanto e ultima notizia fresca di pochi minuti fa la secca apparentemente avrebbe chiesto 2 miliardi di multa imposto 2 miliardi di multa a ripple ripple labs mi pare che sia l'azienda appunto dietro a xrp e loro ovviamente sono intenzionati a fare appello fare ricorso no di questa decisione e dicono il regolatore si sta comportando come ha sempre fatto ultimamente quindi in modo scorretto e vessatorio nei confronti delle aziende cripto noi speriamo che la corte abbia un approccio più equo e ovviamente io sono dalla loro parte ragazzi i nemici della secca sono miei amici quindi in questo caso lo dico forza ripple spaccali in due ragazzi con questo noi ci salutiamo ci rivediamo mercoledì in live questa volta sì in live perché sarò tornato nel frattempo stiamo a vedere che ci combina sto bitcoin se va a stuzzicare i massimi storici in tal caso come reagisce la price action nel caso in cui dovesse partire la vera price discovery quindi una bella leg up bella corposa dopo attenzione alla vera al season attenzione alle altcoin altrimenti stiamo sempre in questa fase laterale e la teniamo d'occhio gli scenari di ritracciamento rimangono invariati non ne abbiamo manco parlato perché sono sempre gli stessi in primis la perdita dei 61.000 e 3 vi auguro una buona serata e alla prossima